Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un grave lutto ha colpito la Rai. Pino Insegno, noto attore, doppiatore e conduttore di reazione a catena. Il presentatore ha perso una persona a lui molto cara, che ha avuto un ruolo cruciale nella sua carriera e nel suo successo nel mondo dello spettacolo, è venuto a mancare suo padre, Armando Insegno, scomparso lunedì 16 settembre 2024 a Roma all'età di 92 anni. Al momento non sono state rese note le cause del decesso. I funerali di Armando si terranno mercoledì, alle ore 11, presso la chiesa parrocchiale di Regina Pacis, nel quartiere romano di Monteverde, come riportato dalla Repubblica. Armando Insegno, originario di Genova, si era trasferito a Roma per lavoro, dove aveva lavorato come vetrinista. Pino ha sempre parlato con grande affetto e stima dei suoi genitori, sottolineando quanto siano stati fondamentali per la sua crescita personale e professionale. Sua madre è scomparsa il 15 dicembre 2003, e ora, con la perdita del padre, si chiude un altro capitolo importante nella vita del conduttore. Tutti noi facciamo le più sentite condoglianze alla famiglia, fatelo anche voi qui sotto nei commenti, se vi fa piacere e ricordatevi di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.